Abbiamo fissato un becker ad un supporto. Al suo interno ci sono dei cristalli di iodio e lo abbiamo coperto con un vetrino d'orologio. Sotto di esso troviamo una lampada d'alcol. Accendiamo la lampada e i cristalli di iodio sublimeranno così da formare una nuvola rossastra nel becker. Vedete i fumi? Viola? Ok. Mario puoi spegnere la lampada. Bene. Ora prendi due cubetti di ghiaccio e mettili sopra il vetrino d'orologio. Un'altra. Bene. Ora, quei vapori di iodio condenseranno, quindi ci sarà un brinamento e si formeranno tanti cristalli di iodio nella pagina inferiore del vetrino d'orologio. Si tratta solo di aspettare un poco. Grazie. 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 Grazie.